Allo Seto, in provincia di Bari, presso il centro sportivo Nick World, si gioca la prima edizione del Nick World Cup 2018, il torneo di calcio San Nicola riservato alla categoria Esordienti, nati nel 2006-2007, che si concluderà il primo maggio. Organizzata dall'associazione sportiva ASD Nick Calcio Bari, l'iniziativa è stata presentata dal responsabile tecnico Marcello Chiricalo alla presenza dell'assessore allo sport Pietro Petruzzelli. Saranno 16 le squadre partecipanti, suddivise in quattro gironi. Nello specifico, l'evento vedrà la partecipazione di società come la Juventus, la Sampdoria e Bari con le categorie giovanili, Nuova Taras Taranto, Virtus Junior Napoli, Esperia Monopoli, ASD Taurisano, Ragazzi Sprint Crispiano, Etra Barletta 2008, Cosmano Sport Foggia, Soccer Team Fasano, Nitor Brindisi, Giovani Kraus Taranto, ASD Statte e ASD Victor Andria. È il nostro obiettivo principale, far conoscere la nostra città, far conoscere il nostro territorio. Oggi parte questo torneo, che è un torneo a carattere nazionale. L'abbiamo voluto dedicare proprio al nostro santo patrone e effettuarlo durante il periodo della festa. Ci sarà la Juventus, ci sarà la Sampdoria, ci sarà il nostro Bari. È normale che la Juventus sia una realtà forse la più importante attualmente nella nostra nazione. Ha scelto la NIC Calcio come punto di riferimento in questo territorio. Siamo l'unica scuola calcio che porta avanti un programma di progettualità importante per la formazione dei ragazzi.